allora come diceva il dottor Tripodi questo mio intervento abbiamo deciso appunto di focalizzarlo e centrarlo su quella che è l'arte tibetana contemporanea che è un fenomeno che io seguo da quando è nato si può dire fenomeno recente di questo secolo di queste ultime decadi e questo lo faccio perché insegnando all'università la sapienza da molti anni corsi sull'arte asiatica contemporanea gli artisti tibetani quando sono emersi all'attenzione internazionale hanno costituito diciamo da subito uno dei miei dei miei interessi parlando di loro ci proiettiamo necessariamente in una dimensione diversa da quella che abbiamo visto negli interventi di questa giornata che sono rivolti se vogliamo più a un tibet del passato mentre invece guardando quello che appunto fanno gli artisti contemporanei tibetani noi vediamo a quello che è una continuità diciamo della tradizione culturale tibetana in una condizione totalmente diversa da quelle che erano appunto le condizioni entro le quali si è sviluppata la civiltà tibetana classica e quindi vediamo anche diciamo dei assistiamo a dei tentativi di attualizzare all'interno di quella che è una situazione appunto molto diversa legata spesso e volentieri più ai destini e alle storie individuali quello che potrà essere un possibile sviluppo della tradizione culturale artistica tibetana attraverso l'opera di questi artisti. Dicevo che le condizioni nelle quali appunto gli artisti contemporanei oggi operano sono ovviamente dal punto di vista storico del tutto diverse da quelle che il tibet ha conosciuto nel tempo perché ovviamente qui parliamo di eventi che toccano la drammatica storia contemporanea che ha vissuto appunto il paese dopo l'occupazione cinese e questi anni sono già stati ricordati come sono stati ricordati anche quelli della rivoluzione culturale che hanno avuto un enorme impatto appunto sulla su quello che è stata la vita la società la cultura e anche la storia tibetana ma guardando appunto a quel momento storico mi preme ricordare che ciò che accadeva nella Cina maoista e soprattutto nella Cina della rivoluzione culturale e ancora dopo nella Cina che sotto le con le riforme di Deng Xiaoping ha cominciato un tentativo di maggiore apertura ecco tutto quello che è accaduto con queste circostanze storiche ha profondamente toccato l'esistenza non soltanto degli artisti tibetani che analizzeremo ma anche profondamente quella degli stessi artisti cinesi perché si può dire che sia l'arte tibetana contemporanea che l'arte cinese contemporanea siano nate entrambe alla fine di questo processo storico doloroso per coloro che lo hanno vissuto sperimentato sulla propria pelle e si sono emerse quindi a partire soprattutto diciamo dagli anni Ottanta come una manifestazione di vitalità del tessuto culturale di entrambi i paesi della Cina e del Tibet e quindi questi drammatici momenti storici hanno avuto però in qualche modo l'effetto di provocare nuovi fermenti in reazione appunto a quelli che sono stati gli eventi storici vissuti. In entrambi i casi sia gli artisti tibetani contemporanei come i loro colleghi, gli artisti cinesi contemporanei e non parliamo di due universi diciamo esclusi perché sono due universi profondamente compenetrate quando si vedono appunto le storie, le biografie di queste persone e ecco in entrambi i casi appunto abbiamo avuto quello che è l'emergere di nuove sensibilità, di nuove tematiche ma soprattutto il confrontarsi di entrambi gli artisti sia tibetani che cinesi con il mondo. Cioè la dimensione nella quale queste nuove generazioni si sono trovate a operare non è più stata una dimensione locale ma è diventata una dimensione globale e questo perché? Questo perché in entrambi i casi sia i tibetani che i cinesi sono stati costretti, artisti e intellettuali, sono stati costretti a una diaspora anche per poter andare a cercare altrove e non appunto nel solo Tibet o nella sola Cina le condizioni essenziali per poter continuare in modo libero e non condizionato da quello che appunto è l'atteggiamento totalitario del regime cinese, il loro percorso artistico, intellettuale e anche come sviluppo diciamo di come individui. E quindi questa è una premessa storica importante da fare perché altrimenti diciamo non si percepisce la la qualità diciamo del fenomeno e anche le sue ramificazioni e e quant'altro. E quindi adesso anche per passare a quelle che sono le immagini quindi per farvi meglio comprendere diciamo con degli esempi quelle che sono le opere degli artisti di cui parliamo ricorderò soltanto che spostando il focus appunto in questo momento sul Tibet che appunto dopo la morte di Mao e con le prime iniziali timide riforme di Deng Xiaoping con i primi segnali appunto di apertura indirizzati soprattutto alla società che era stata quella che aveva maggiormente diciamo dovuto subire quello che era il peso della rivoluzione culturale e quindi della massiccia propaganda ideologica accompagnata da una iconografia martellante collegata appunto a quello che erano gli slogan e le campagne del regime. Dopo appunto questo periodo negli anni Ottanta hanno cominciato a svilupparsi quelli che sono i semi di questi di quello che noi definiamo appunto come arte contemporanea sia in Tibet che che in Cina. Gli artisti che noi vedremo adesso sono artisti che hanno storie diverse tra di loro. Io i primi due che ho preso li ho preso proprio per esemplificare diciamo due aspetti di quella che si può rifinire diciamo l'attività degli artisti contemporanei di oggi cioè di coloro che hanno lasciato il Tibet o hanno anche lasciato l'India o altre località diciamo più prossime a quella che è la madrepatria e hanno optato per vivere nel mondo ma anche diciamo calati profondamente in quelli che sono contesti occidentali quindi trovandosi anche a vivere come del resto i loro colleghi cinesi entro ambiti culturali che non erano affatto loro propri. Questo per dire che nessuno di loro ha avuto una vita facile diciamo anche se poi i loro sforzi sono stati premiati perché comunque gli artisti che vi presenterò sono oggi internazionalmente riconosciuti e sono delle coloro che diciamo in qualche modo hanno fatto e continuano a fare continuano a portare lustro a quello che è questo movimento che ancora ripeto essendo nato da poco è qualcosa che prende diciamo delle forme che mutano nel tempo e che si caratterizza per tante diversificazioni. L'altro artista, il secondo artista che invece vi presenterò è un artista che invece è rimasto in Tibet perché noi abbiamo non tutti i tibetani che oggi operano e anche sul circuito internazionale sono all'estero ma alcuni continuano appunto a vivere in Tibet. Questo anche per proprio portare la loro esperienza artistica a vantaggio di quelle che sono le nuove generazioni e quindi di sviluppare anche il loco quello che è la cultura. Ora quello che si può dire caratterizza l'opera di questi artisti è che questi artisti appunto si sono trovati ad operare in un mondo globale e hanno deciso di utilizzare in parte quello che è il linguaggio della loro propria tradizione dal quale però gli eventi storici che il Tibet ha vissuto li ha separati. Non c'è più stata quella continuità che nei secoli abbiamo avuto e che ha garantito appunto la progressione nel tempo, lo sviluppo di scuole artistiche in Tibet che noi conosciamo da quelli che sono appunto gli studi anche dei nostri grandi orientalisti italiani e quindi si è rotto diciamo il sistema è stato infranto il sistema tradizionale dove anche l'arte era principalmente a servizio come stamattina già ampiamente dettagliatamente e modo devo dire anche come sempre molto chiaro ha illustrato il collega Massimiliano Polichetti un'arte appunto legata alla rappresentazione del sagro, un'arte che appunto il dito e non la luna ma che ha sempre diciamo avuto una funzione essenziale all'interno di quello che è il discorso essenzialmente religioso e quindi questi artisti gli artisti tibetani contemporanei non hanno vissuto più in questo in questo clima perché questo è stato infranto dall'occupazione cinese, dalla rivoluzione culturale e conseguentemente dagli anni di repressione culturale e della popolazione tibetana che si sono seguiti anche negli anni duemila con episodi molto violenti. Quindi l'arte che noi che loro diciamo che loro pratica è un'arte che è separata ormai da questa sfera religiosa ma che non rinuncia ad utilizzare quelli che sono schemi iconografici, iconografie stesse, temi dell'arte tradizionale che sono attualizzati appunto nelle opere degli artisti i quali cercano tutti si può dire singolarmente nessuno di essi cerca di fare l'artista tibetano fra virgolette in modo tale da attirare interesse e da proporre se vogliamo quella che è la cultura tradizionale tibetana in una versione consumistica quindi come un prodotto che può essere diciamo venduto perché corrisponde a una immagine che del tibet si ha e non soltanto noi occidentali badate bene perché il grosso del turismo dell'invasione turistica che il tibet ha vissuto è quella cinese soprattutto dopo la costruzione della linea ferroviaria che consente di prendere il treno a Shanghai e di arrivare all'Asa con una escursione anche diciamo di altitudine notevolissima ma quest'opera ha praticamente consentito l'apertura del Tibet al turismo di massa cinese e quindi diciamo questa riflessione degli artisti tibetani non è tanto rivolta a questo di non fare appunto i tibetani e cioè di non riproporre quelli che sono degli degli schemi delle iconografie dei cliché in fondo diciamo a uso e consumo di coloro che guardano al paese ma a caso mai di invece utilizzare appunto gli strumenti e dell'arte tradizionale per poter creare delle opere che invece costringono a una riflessione e questo credo che sia l'elemento diciamo più importante quindi io credo che posso condividere se non sbaglio no? Penso di immagino perfetto allora il primo di questi artisti che voglio presentarvi è Gonkar Ghiazzo che è probabilmente diciamo uno dei primissimi artisti ad essere stato conosciuto fuori dal Tibet perché Ghiazzo appunto ai primi lasciò fu tra coloro che lasciarono il Tibet dopo le persecuzioni che si ebbero negli anni Ottanta cioè dopo la prima iniziale apertura a cui accennavo prima la Cina ebbe dopo qualche anno delle chiusure e anche diciamo dei tentativi in qualche modo di controllare quello che era diventata la manifestazione del libero pensiero che sfociarono come tutti noi sappiamo negli episodi del di Tiananmen nel 1989 e quello fu un anno eh fondamentale perché da lì scattò la diaspora proprio degli artisti sia cinesi che poi anche eh tibetani e di furono poi anche delle repressioni particolarmente feroci in Tibet che ovviamente provocarono in 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 molti il desiderio di potersi in andare e Goncar Ghiazzo classe millenovecentosessantuno e appunto eh tra loro ehm credo che dobbiate abilitare la condivisione dello spermo perché mi dice che non è ma pare che la connessione sia un po' ciao ok perfetto questo punto è Goncar Ghiazzo e eh Goncar Ghiazzo eh dopo aver eh lasciato il Tibet ha vissuto per un periodo a Dharamsala ma poi si è spostato nel mondo occidentale e in particolare a Londra dove eh poi ha realizzato le sue prime mostre appunto eh eh nella nella prima decada di 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 questo secolo. La prima opera pensate di fare il video di Goncar Ghiazzo è questa che eh si chiama La mia identità e che è un'opera interessante perché è appunto una riflessione che l'artista ha fatto relativamente proprio a questa diaspora che lui ha vissuto e quindi anche a a a a questa condizione diciamo di esiliato nel eh eh in un mondo eh appunto diverso da quello che lui ha conosciuto eh per molti anni e questo quindi questa questo lavoro che si diciamo in quattro immagini è un lavoro che eh Ghiazzo ha eh diciamo ha l'ispirazione per questo lavoro deriva da una fotografia del milenovecentotrentasette eh ehm che è una fotografia famosa diciamo ehm del pittore del Dalai Lama che fu presa appunto da da uno dei primi occidentali che eh arrivarono in in Tibet quindi Ghiazzo si è ispirata a quella fotografia che nell'impianto è assolutamente la medesima come noi la vediamo solo che è in bianco e nero e è realizzato nel tempo quindi questa è un'opera che diciamo lui ha scaglionato sul sull'arco di più anni ha realizzato questa questa opera che è in in quattro eh in quattro parti quattro fotografie che rappresentano e costituiscono se vogliamo la narrazione della sua personale esistenza e quindi in questa prima immagine l'artista si è ritratto nel nell'ambito diciamo della cultura tibetana tradizionale quando appunto eh eh studiava anche quelle che erano le tecniche pittoriche tradizionali e qui questo è ultimo momenti della sua esistenza seguito da qui invece in cui Ghiazzo qui dipinge un ritratto che è quello di Mao e questo chiaramente è ispirato agli anni della rivoluzione culturale dove appunto come si vede sono mutati tutti gli oggetti che circondano l'artista l'artista stesso non veste più nel vestito tradizionale tibetano ma indossa l'uniforme della guardia rossa e quindi questo appunto è eh e e questa dominanza dell'immagine di Mao che noi vediamo sulla tela che noi vediamo sulla spilla che porta eh eh appesa appunto alla divisa sul porta pennelli sul busto e i giornali eh eh cinesi appunto che tappezzano le pareti ricordano la ossessione durante il periodo della rivoluzione culturale appunto della propaganda eh cinese fortemente incentrata anche sulla figura appunto di Mao eh di Mao stesso. Nella terza delle 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 di queste tre eh immagini eh Giazzo si è raffigurato invece nel periodo in cui ha vissuto a Dharamsala e qui vedete che eh eh ha un dipinto dove vediamo anche il ritratto del Dalai Lama e qui diciamo la sua identità si modula su quello appunto che è la 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 se vogliamo appunto la comunità tibetana in esilio che ehm vive prossima ma impossibilitata comunque a tornare alla propria terra. L'ultima delle immagini è questa dove invece Giazzo si è fotografato nel contesto nuovo nel quale si trova cioè nel mondo occidentale a Londra sono le opere sono dei primi anni del del secolo e quindi qui Giazzo era arrivato appunto da da poco a Londra e in questo caso l'artista veste più all'occidentale addirittura adesso ha anche un tatuaggio in modo che la sua identità tibetana no sia diciamo anche eh eh esposta attraverso quello che è un codice espressivo purtroppo dominante nel nostro mondo occidentale cioè quello dei tatuaggi e sta dipingendo un un dipinto diventato astratto quindi non c'è più nessuna immagine non c'è una iconografia precisa in tutto questo ma in questa dimensione nuova in questo contesto nuovo nel quale appunto l'artista trasferisce la propria identità in fondo è come se noi vedessimo no una sorta di trasmigrazione diciamo di reincarnazioni nella medesima vita sono tutti diciamo momenti diversi dell'esistenza di Giazzo che l'artista poi le mette diversamente ma che sono comunque riuniti attorno a quella che è la sua figura e eh che infatti non cambia mai la postura e quello che muta intorno a lui sono se vogliamo le circostanze eh eh le circostanze esterne un messaggio anche per rimarcare diciamo in qualche modo una continuità ideale nonostante le diverse condizioni eh le diverse diciamo eh opere che ha dovuto poi nel tempo realizzare per soddisfare fra virgolette quelle che erano le necessità dell'ambiente nel quale si trovava nonostante questo rimane sostanzialmente integro appunto nella sua eh eh personalità e proprio nel momento in cui Giazzo è andato a Londra lì c'è stato diciamo il momento della scoperta di questo artista eh il quale fu eh appunto presentò attraverso quelle che erano delle gallerie che operavano appunto lì eh a Londra al tempo presentò alcuni dei suoi lavori che gli consentirono di acquisire appunto gradualmente una popolarità che poi lo ha portato ad essere considerato appunto oggi uno degli artisti tibetani più contemporanei eh scusate più famosi una della diciamo una la cifra stilistica che ha caratterizzato il lavoro di Giazzo in questo periodo occidentale diciamo più che appunto londinese ehm è stata quella dell'utilizzo di ehm di adesivi molto piccoli e eh estremamente legati e diversi tra loro con i quali l'artista ha creato dei collage che sono sostanzialmente costruiti attorno agli schemi iconografici della tradizione classica eh buddista e adesso vi offro appunto eh degli esempi di questo questo è l'artista ad esempio nel suo studio e qui vediamo che Gongar Giazzo sta lavorando a quello che è una scultura di Buddha completamente ricoperta di questi micro adesivi che l'artista eh eh appunto nel nel in forma di collage poi compone sul corpo del Buddha stesso e in fondo qua sulla parete noi vediamo un altro dei lavori di questo tipo inizialmente diciamo Giazzo ha lavorato sulla bidimensionalità questa è un'opera diciamo più recente nella quale appunto hm ha trasferito questa tecnica su quello che è una scultura di Buddha mentre Giazzo prima lavorava adesso vi faccio vedere un altro esempio lavorava con eh eh diciamo immagini più di tipo pittorico bidimensionali come eh questa che appunto costituita da 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 migliaia di micro adesivi che composti insieme formano questa immagine appunto del Buddha ora in queste eh eh in queste opere di Giazzo appunto noi vediamo l'utilizzo di quello che è una coreografia se vogliamo diciamo la 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 l'immagine più 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 famosa immediatamente riconoscibile non soltanto all'interno di un contesto culturale religioso come quello tibetano o buddista in generale ma ormai ampiamente diciamo eh eh nota anche eh nel mondo occidentale e eh 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 non necessariamente buddista perché è l'immagine insomma del del Buddha stesso che per Giazzo è diventato un modo proprio per eh eh coniugare un po' questa esperienza di due mondi molto diversi quello da cui lui viene e quello nel quale è entrato e quello da cui viene è ovviamente un mondo che è un po' un fantasma nel senso che queste immagini del Buddha non sono più chiare incisive eh 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 come lo erano nel momento in cui appunto il eh Tibet e la religione buddista erano eh elementi importanti della cultura tibetana ma sono delle immagini che adesso si sono se vogliamo svuotate di quello che è il loro intimo significato. Resta quindi la siluette, resta quindi l'immagine eh riconoscibile del volto del Buddha che però in questo caso si dissolve all'interno di un mondo che è interamente costruito questo diciamo dell'alone da che irradia dalla testa del Buddha è un mondo interamente costruito di immagini che sono appunto derivate dal eh eh da quello che è l'immaginario occidentale ed è un dettaglio appunto di questa di una sezione no di questo di questo del del eh dell'aureola che irradia dal Buddha si vede appunto questa eh eh quantità incredibile sono migliaia e migliaia di adesivi che ghiazzo prende da tutta una serie di fonti altre e poi compone in queste che sono immagini che non lasciano immediatamente far intendere come sono costruite quando li si guardi appunto da una certa distanza ma si si scopre che quella che apparentemente può apparire sembrare un'immagine sacra è realtà una immagine che evoca un ricordo di una sacralità ma all'interno appunto di quello che è un contesto invece eh altamente consumistico come appunto quello del mondo occidentale. Anche qui diciamo quello che in fondo ghiazzo eh il Buddha per molti degli artisti contemporanei e non solo tibetani ma per tutti quegli artisti perché eh avevano una relazione particolare con il buddismo e penso anche a Nanjoon Peck il coreano che è considerato il padre della video arte e che con le immagini di Buddha realizzato numerose opere appunto nella nella sua esistenza il Buddha divenne una sorta di simbolo della dell'identità profonda anche di queste persone perché è quel simbolo che quella immagine che più si associa a quella che è stata diciamo la 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 forma la la loro formazione eh culturale però appunto la 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 questa immagine perde il valore sacro che aveva una volta e e e e e si stempera invece come è stata poi anche l'esperienza di ghiazzo stesso si stempera diciamo in quello che è è è il mondo eh occidentale dispersivo perché questa frammentazione di tutti questi adesivi questa estrema eh questa grande quantità di questi fa fa capire come quello che apparentemente è un'immagine unica dell'occidente in realtà appaia come una frammentazione di oggetti sostanzialmente quindi una una cultura poi anche profondamente materialistica che nonostante ciò costituisce quasi la luce di radiante del Bund eh però ecco eh non mh questa questo diciamo questa linea di sviluppo di ghiazzo li ha meritato la popolarità perché ovviamente ha trovato successo soprattutto in occidente perché questi sono richiami anche voluti a quella che è la cultura visiva pop eh che si è sviluppata soprattutto nell'America del dopoguerra che comunque ha attecchito profondamente non è ghiazzo l'unico degli artisti orientali o asiatici contemporanei che si rifaccia e che attinga alla cultura pop eh in modo diciamo eh ma ehm lo fanno comunque perché per loro tutto questo è stata anche una scoperta cioè questa cultura pop è quello che loro hanno conosciuto del mondo eh eh occidentale soprattutto quello che gli dà questa questa mh questa cultura e che la caratterizza se vogliamo un po' anche nelle sue radici è quella della combinazione anche di tutta una serie di elementi e soprattutto di nobilitare a livello di 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 oggetto artistico anche quelle che sono invece rappresenti elementi ripresi dalla eh dalla quotidianità però quello che mi interessa mh ribadire perché si può pensare che queste possano essere facilmente delle operazioni anche di tipo commerciale ma parliamo di cose successe ormai una ventina di anni fa queste queste opere non c'è mai stata l'intenzione di questi artisti diciamo di fare eh di giocare su questo elemento attrattivo per il mondo occidentale cioè utilizzare immagini del Buddha elementi della cultura tibetana sposarli a quello occidentale e ottenere così diciamo un riconoscimento anche visivo da parte del pubblico occidentale e un apprezzamento che si tramuta in acquisto delle loro opere perché in fondo come è giusto che sia gli artisti desiderano vivere anche del proprio lavoro e quindi diciamo che se possono ricavarne un guadagno questo gli consente di continuare la loro attività come eh artisti quindi non c'è mai stata nessuno di loro un atteggiamento purbesco se vogliamo no per utilizzare appunto questi elementi eh della cultura tradizionale e e e e quindi fare breccia e conquistare il pubblico occidentale non c'è mai stata è stata qualcosa che è venuto diciamo da sé cioè siamo stati noi pubblico occidentale che abbiamo decretato il successo di artisti come Giazzo ed altri perché abbiamo decretato il successo di quelle opere che noi riconoscevamo più facilmente infatti gli artisti della prima generazione che si sono affermati tra quelli cinesi contemporanei sono coloro che rielaboravano l'immagine di Mao che era stata l'immagine più ossessiva durante la rivoluzione culturale e siccome noi in occidente oltre Mao poco conoscevamo della Cina nel momento in cui gli artisti chinesi contemporanei hanno cominciato a produrre opere dove Mao figurava riconoscendolo noi lo abbiamo apprezzato perché come diceva la collega Celli stamattina si tende a vedere alla fine anche diciamo a farci piacere ciò che conosciamo e poi le volte quello che invece non conosciamo nemmeno lo notiamo. Quindi detto questo, questa è una premessa fondamentale perché anche nei lavori che vedremo poi del prossimo artista diciamo c'è una c'è questo elemento della cultura pop ma vorrei finire un attimo con Ghiazzo ricordando che lui nel 2009 fu il primo artista tibetano contemporaneo che fu invitato a partecipare alla Biennale di Venezia e questo è importante perché costituisce diciamo se vogliamo proprio il momento in cui storicamente l'arte tibetana contemporanea è entrata anche nel grande circuito dell'arte appunto contemporanea proprio attraverso la partecipazione a una delle Biennali più antiche e prestigiose e quando Ghiazzo andò al Biennale era il periodo in cui lui appunto creava queste opere basate sui 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 sull'utilizzo appunto queste opere diciamo di collage basate su eh eh l'utilizzo appunto degli 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 adesivi eccetera e presentò un'opera che invece eh spiazzò molti perché è un'opera concettualmente non facile ed è anche strettamente connessa invece al proprio passato di tibetano in esilio vediamola ed è questa opera che noi vediamo questa è una ci sono poche foto di questa partecipazione alla Biennale che si trovano appunto in rete e questo era l'angolo dove appunto Ghiazzo aveva esposto le due opere una la riconosciamo dietro appunto che è eh questa silhouette del Buddha eh lavorata appunto a a collage e poi c'era quest'altra lunga opera che praticamente eh eh occupava una intera parete e eh che era eh un'opera invece che nasceva che eh che illustrava sostanzialmente attraverso la forma di questo di un grafico le relazioni intercorse tra la Cina e il Tibet dal 1950 ad oggi e questa è la linea temporale diciamo delle relazioni questa linea rossa mentre invece questa linea che ha questo andamento questa sorta di grafico quasi come di un grafico no in borsa questa linea qui rappresenta proprio la curva dell'andamento dei rapporti tra Cina e eh e Tibet ovviamente la parte soprastante è quella dove vi sono i momenti in cui il rapporto raggiunge una 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 ha diciamo degli elementi di soddisfazione eh eh anche per la parte tibetana mettere invece la maggior parte del grafico invece vedete è sotto la linea rossa a eh indicare come nella gran parte dei casi delle circostanze delle situazioni purtroppo appunto la 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 questa pacifica eh liberazione del Tibet come appunto fu eh eh chiamata l'operazione di annessione eh in realtà appunto eh eh è a svantaggio della popolazione tibetana grafico costruito attraverso eh tutta una serie di eh momenti storici per cui questa linea non è casuale ma segue nel nel nella leggenda che si trova sopra e sotto il grafico segue eh eh quelli che sono eventi storici che in modo diacronico sono appunto collocati lungo questa linea la quale linea attraversa come vedete la sua la silhouette di un Buddha reclinato che assorge in quest'opera appunto a simbolo del Tibet anche ricordando se vogliamo diciamo proprio il profilo del Tibet come tetto del mondo no e quindi anche diciamo proprio per dare un'idea anche visiva di quello che è eh appunto il 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 paese vis a vis appunto questo eh incontro con eh la Cina e eh quest'opera ripeto fu la differenza tra questi due lavori è abissale perché qua immediatamente c'è questa riconoscibilità visiva di un simbolo infatti c'è un'attrazione le persone lo fotografano guardano perché si capisce perché si comprende così qui l'unica cosa che si comprende è il è la silhouette del Buddha eh eh sdraiato mentre per capire appunto la costruzione del lavoro e il discorso che il lavoro vuol fare e portare all'attenzione bisogna appunto entrare nel dettaglio dell'opera e la leggenda delle vicende tra Cina e Tibet è eh illustrata ricorrendo alla stessa tecnica degli adesivi che vediamo utilizzata in queste immagini eh più eh eh diciamo eh più collegate a quello che è invece una rielaborazione sulla iconografia tradizionale. Ecco questo per dire che eh quella che può apparire le volte mh una a non dico una una sorta di leggerezza ma per continuare il discorso di prima forse una superficialità che qualcuno potrebbe eh a primo di primo acchito vedere in queste opere c'è sempre invece ma questa è una caratteristica di gran parte degli artisti asiatici che abbiano spessore ma un po' di tutti gli artisti dovremmo dire è quella che appunto l'opera invece è il frutto di una riflessione e quindi porta all'attenzione dello spettatore non un messaggio estetico ma un un messaggio che utilizza anche la dimensione estetica per poi arrivare in questo sostanzialmente non ci vedo molto di diverso dall'arte eh tradizionale nel senso che appunto mh anche a a a a chi non fosse esperto dell'arte eh sacra tibetana tradizionale l'attrazione quindi per la dimensione estetica per le armonie che sono poi insite all'interno delle composizioni è immediata ma la comprensione invece quindi l'elemento in quel caso non solo concettuale ma diciamo in primis comunque concettuale per la comprensione del del dell'iconografia è essenziale come appunto anche in in queste immagini ora eh come vi dicevo eh Giazzo è stato eh l'artista che ha eh uno degli artisti uno degli artisti che ha deciso di lasciare appunto in Tibet e di vivere poi nel mondo occidentale eh ma non per lasciarsi alle spalle un vissuto un trascorso una 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 esperienza di vita ma per poi eventualmente riattualizzarla in una dimensione esistenziale completamente nuova vi sono stati però degli artisti che hanno eh deciso di rimanere in eh in Tibet e uno di questi che è una figura importante in quanto eh svolge anche proprio un lavoro profondo anche con quelli che sono le accademie locali eccetera eh uno di questi eh artisti è eh eh lo presento faccio vedere nell'immagine ecco Gade anche lui lui è del 1962 quindi un anno più giovane di 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 Giazzo ma insomma sono tutti più o meno eh eh tutti più o meno coevi questi eh questi artisti e Gade ha ricevuto mh da da giovane una un allenamento un un training scusate una 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 preparazione diciamo accademica e scolastica più tradizionale in quanto lui è sempre rimasto affascinato dal pittura e quindi appunto da giovane ha studiato eh la pittura quando lui ha studiato da giovane il Tibet era già occupato nell'accademia di pittura eh tibetana insegnavano artisti che provenivano da Pechino quindi c'è dall'inizio del percorso nella modernità degli artisti tibetani c'è un legame profondo con la capitale e con gli artisti eh che lì lavorano insegnano ed è da qui che nasce e guardate c'è un profondo rispetto da entrambe le parti perché ovviamente entrambi si mh gli artisti si muovono gli artisti di cui parliamo adesso insomma gli artisti non compiacenti del regime si muovono ovviamente in una sfera che è eh eh non è quella appunto del del della propaganda ma è una sfera esplorativa e appunto collaborativa per cui tra l'ase e Pechino nel campo artistico ci sono state molte importanti collaborazioni i primi insegnanti che andarono appunto a insegnare nell'accademia eh nell'accademia in Tibet e venivano dalla Cina e tra questi ve ne sono stati alcuni che sono stati fondamentali per la formazione di giovani artisti come appunto è stato eh Gade anche perché eh 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 al contempo loro hanno appreso sia diciamo le 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 tecniche tradizionali come anche già diciamo con una apertura nella loro formazione verso quelle che anche erano eh modalità rappresentative stilemi e altro non ortodossi diciamo e non eh eh diciamo eh come erano precedentemente nel nel Tibet classico eccola per farvi vedere diciamo come eh Gade ha sviluppato questa eh eh sua linea rappresentativa e narrativa faccio vedere quelle che sono delle opere diciamo tra le più famose della sua produzione e che è una serie che lui ha intitolato in modo volutamente ironico making god cioè eh eh appunto la 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 creazione di divinità di immagini di divinità e quello che caratterizza queste serie è un po' quello declinato in un'altra formula se vogliamo forse ancora più pop ancora più eh collegata ad aspetti della cultura contemporanea occidentale ma meglio dire in particolare americana e quindi diciamo il risultato di questo lavoro di Gade è stata la creazione di una serie di opere che nell'impianto assomigliano a quelle che sono le 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 pitture tradizionali tibetane ma nell'iconografia rivelano quello che è una completa di partita da questi modelli per cui qui vediamo un 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 incredibile Hulk che sostituisce no quella che sarebbe stata la divinità tibetana qui presente e nelle vignette laterali vediamo appunto tutta una serie di eh eh episodi che hanno come caratterizzazione dei personaggi che appunto non sono della tradizione tibetana ma derivano in gran parte da quelle che poi invece sono i fumetti americani non solo della Marvel perché poi ci sono anche altri personaggi che sono presi da altre eh eh diciamo da altri contesti ecco eh qui eh l'operazione che ha fatto Gade eh si spiega su più livelli il primo è quello diciamo della tecnica perché Gade è molto eh è rimasto molto attaccato alla pittura e soprattutto a quello che sono anche le tecniche tradizionali di pittura per cui lui come altri pittori utilizza ancora investigandole praticandole quelle che sono proprio le tecniche della pittura tradizionale che sono come nel caso appunto delle 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 pitture come qui sono caratterizzate dalla da una quantità di dettagli e di eh 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 di elementi appunto che sono all'apparenza quasi invisibile che poi si colgono entrando diciamo all'interno del del eh del dipinto l'altro elemento che Gade sottolinea in queste sue opere è l'elemento narrativo cioè lui una componente che piace molto dell'arte tradizionale tibetana è proprio questo anche della narrazione che poi è insita nell'arte buddista delle origini dal Gandhara in poi e eh che comunque in Tibet ha una eh ramificazione in quella che è una forma di arte non sacra ma popolare e eh collegata diciamo principalmente alla rappresentazione del paese, la natura, la gente e così via. Quindi Gade prende molto anche di questa tradizione e ha realizzato indipendentemente da questa serie appunto Making Gods ha realizzato anche delle opere che sono diciamo più eh eh ispirate a questa parte della pittura che attinge a a quello che è se vogliamo un bagaglio più popolare e non invece attinente alla eh sfera religiosa. E altri due esempi di questa serie perché sono piuttosto divertenti, mi scuso se le immagini non sono dettagliatissime, qui coloro eh eh come appunto eh i colleghi che sono presenti in sala riconosceranno ovviamente gli schemi classici delle composizioni, ma sì lo riconosciamo tutti, in questo caso anche qui la divinità eh buddista che dovrebbe figurare sostituita da una che ha una testa di Mickey Mouse e questa coltre di 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 mille Mickey Mouse sostituisce i mille Buddha che facevano da sfondo appunto a questo tipo di 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 immagini. Questo è un esempio ulteriore che presenta una variante sul tema dove al posto di Mickey Mouse è presente l'uomo ragno che fa anche una mudra che appunto mediata anche questa la posizione stessa della figura eccetera. Tutto questo attenzione non va visto come un atto sacrilego ma ripeto è un'operazione volontaria di recupero e adattamento in diverso contesto di immagini derivanti dal contesto tradizionale verso il quale tutti gli artisti nutrono profondo rispetto ma non necessariamente appunto loro si dichiarano eh 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 artisti sacri ecco sono artisti che quindi utilizzano una molteplicità di elementi per costruire un discorso nel quale trova molto spazio quello che appunto sono anche elementi derivanti dalla tradizione eh dalla tradizione classica tibetana e questa un'ultima immagine dove vediamo appunto da Batman il clown di 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 McDonald un Buddha vestito con uniforme di Mao eh Mickey Mouse e l'uomo ragno questa che e questa serie appunto è una serie che ha diciamo portato molta ehm celebrità a Gadei queste sono opere molto belle anche quando perché sono veramente delle opere diciamo realizzate con degli standard pittorici estremamente alti quindi comunque richiedono dal punto di vista formale la costruzione di una griglia la 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 ma questo sia per Giazzo che in fondo per questa di Gadei quindi vi si ritrovano al loro interno diciamo proprio quelli che sono gli elementi anche tecnici della tradizione artistica eh tibetana classica ma l'opera che poi invece paradossalmente ha reso eh Gadei più famoso mh prima appunto di questa serie è un'opera che in realtà è una 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 eh un'opera effimera si può dire che esiste oggi documentata soltanto attraverso delle fotografie ed è un'opera che eh Gadei eh realizzò nel 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 2006 mi pare ed è questa opera che eh si chiama semplicemente chiamata ice Buddha eh sculpture cioè ecco una scultura di Buddha realizzata realizzata in ghiaccio che eh Gadei stesso ha eh scolpito vi faccio vedere quello che è il ehm questa è una foto che ritrae l'artista nel momento in cui sta realizzando quest'opera questa scultura appunto di ghiaccio che l'artista ha ha intagliato appunto nel ghiaccio e che poi ha posizionato all'interno delle acque del del fiume che scorre all'asa e infatti nell'immagine come notate il eh in secondo piano qua in alto abbiamo praticamente vediamo il potala quindi questa eh eh Gadei che cosa ha fatto? Ha realizzato questa scultura di ghiaccio di ghiaccio la posta nell'acqua del fiume e ha scattato una serie di immagini come vedete mentre progressivamente la scultura si dissolveva tornando acqua nel nel e quindi disperdendosi poi nel fiume. Allora questa che è un'opera semplicissima se vogliamo è un'opera che ha avuto un grande scalpore che addirittura ha costretto a Gadei a rifare diciamo a a reenact come si dice in inglese cioè a a riproporre a a a proprio a rifare nel senso a rintagliare di nuovo questa scultura del Buddha almeno in un paio di occasioni ed è un'opera diciamo che nella sua assoluta eh semplicità però è un'opera che invece racchiude tantissimi significati e richiama a tantissimi a molti di quei valori addirittura alcuni di quelli fondanti diciamo di quello che è il pensiero buddista primo tra tutti appunto quello della impermanenza ma anche il fatto che poi nella sua dissoluzione il ghiaccio torna a essere l'acqua quindi materia indistinguibile e quindi la differenziazione dell'immagine del Buddha poi sparisce nel momento in cui si unisce a quello che è l'assoluto se vogliamo rappresentato appunto dall'acqua del fiume però qui c'è una sottigliezza perché questa immagine noi vediamo che gioca continuamente dialoga l'immagine del Buddha con quello che è il Potala in secondo piano e sostanzialmente e qui è chiaro che il discorso assume anche una connotazione diversa perché questo è un po' una dichiarazione da parte di Gadè un manifesto diciamo di quello che è la scomparsa graduale ma inesorabile della cultura tibetana tradizionale rappresentata appunto da questa immagine appunto del Buddha che via via svanisce fino a scomparire e ne rimane se vogliamo lo scheletro quelle che sono le architetture ma ormai utilizzare soprattutto a uso e consumo diciamo di quelli che sono i visitatori e quindi quest'opera è allo stesso tempo una riflessione filosofica di valore universale e invece anche una riflessione più particolare e anche una denuncia di quello che è lo stato diciamo che vive il Tibet nel momento nel momento attuale ecco di artisti ce ne sono molti di artisti tibetani che appunto molti diciamo ce ne sono un po' di oggi presenti sulla scena che sono attivi e che fanno appunto ciascuno di loro un discorso diverso nel quale appunto rientrano poi elementi della cultura artistica tibetana non è nessuno di loro impegnato diciamo se vogliamo in quello che è il una prosecuzione dei metodi espressivi diciamo anche contenuti dell'arte tradizionale tibetana ma ognuno di loro diciamo porta se vogliamo la propria visione individuale personale filtrata attraverso le proprie memorie le proprie esperienze e quant'altro e in nessun caso nessuno di loro appunto rinuncia a questa loro radice identitaria culturale ma appunto il tentativo è quello appunto di attualizzarla di presentarla in quelle che sono delle forme anche diverse e quello che si può dire che sostanzialmente in fondo accomuna un po' tutti questi artisti quando toccano quelli che sono i temi tradizionali è che ciò che fanno è più che lavorare se vogliamo sul sul simulacro quindi sull'immagine anche se appunto molti di essi sono stati allenati e hanno studiato i metodi della pittura tradizionale lavorano più sui messaggi e quindi anche su quelli che sono appunto possono essere come nel caso dell'opera vedevamo di Gadei messaggi di valore più universale che possono essere colti da tutti e che possono anche essere veicolati talvolta appunto in quelle che sono diciamo forme sostanzialmente diverse dalla tradizione classica tibetana io qui mi fermerei gli esempi potrebbero essere appunto tantissimi ma non vorrei diciamo era per dare un'idea di quelle che possono essere due tendenze all'interno di questo fenomeno relativamente nuovo eh è un terreno secondo me molto ricco io penso che ci si potrebbero essere anche degli sviluppi eh futuri sui quali in qualche modo vedo dei segnali in generale parlo di quelle che sono le istituzioni accademiche nel mondo e anche nei musei là il fatto che eh eh cioè ci sono molto più spesso si va cercando una relazione tra quello che è l'elemento tradizionale e la contemporaneità e quindi spesso appunto vengono presentati gli artisti contemporanei asiatici anche in quelli che sono dei contesti che richiamano diciamo all'arte tradizionale ora in questo stavo pensando al fatto che il museo nazionale di Torino ha un nuovo direttore che è Davide Quadrio che viene da una esperienza eh sostanzialmente maturata nel contesto cinese dove per tanti anni ha ha aperto uno spazio indipendente di ricerca eh artistica quindi non filo governativo ma appunto diciamo dopo uno spazio dove dove molti degli artisti che poi sono stati conosciuti in occidente si sono insomma anche eh cimentati che ora è diventato direttore del nuovo eh direttore del museo appunto di arte orientale di Torino da come eh da quello che ha dichiarato insomma e da quello che subito ha fatto appunto ha portato appunto questo elemento di contemporaneità anche perché Quadrio ha realizzato pochi anni fa a New York una mostra dove appunto venivano presentati artisti eh che eh lavoravano sul tema diciamo del 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 buddismo da varie angolazioni e e quindi insomma in qualche modo io penso che queste sono oltre a quello che è il lavoro che da una parte come studiosi come conservatori eccetera si può fare per eh eh conservare valorizzare quello che è il patrimonio acquisito da coloro che ci hanno preceduto dobbiamo considerare la realtà dei fatti e quindi eh eh in questo trovare delle nuove forme di azioni e di valorizzazione e di valorizzazione di quelle che sono comunque delle esperienze artistiche valide e concomitanti che avvengono appunto nel tempo che 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 noi stiamo vivendo e che alla fine sono proprio quelle che consentono che costruiscono un ponte tra quello che è stato una tradizione pluricecolare e una modernità che in molti casi è arrivata forse troppo velocemente troppo violentemente e che ha provocato appunto mutamenti che ancora non sono stati assorbiti né dalle varie società diciamo nel loro complesso né ancora metabolizzati nell'esperienza dei vari individui. Vi ringrazio.